Continuano ad inseguirsi le principali tre formazioni in lotta per la vittoria del campionato. La Vultour si impone a Ferrandina grazie al gol di Alassani al ventesimo dopo il voto e risposta tra Figliomeni e Daugendi. Il Materagrumendum è liquida per 4-1 il Castelluccio ma la formazione di Finamore fino a 9 minuti dalla fine non se la stava passando bene, era soltanto 1-1 prima che La Carra, Falco e Mastroberti riuscissero a fissare il poker finale dopo il voto e risposta tra Figliardi e Catalano. Il Mondescaglioso vince di misura in casa del Realtor che decide Pizzoleo mentre al quarto posto in classifica il Pomarico raggiunge il Realsenise con un Tris firmato dalla doppietta di Ranieri e Caponei mentre il Policor con lo stesso risultato batte il Vela con Canci, Sov e Guida. Alle spalle delle quarte classificate troviamo il Murphy che batte all'inglese il Moliterno nel finale di prima frazione con Maiorino e Suriano. Sono da registrare la prima vittoria nel campionato dell'Elatronico che vince grazie a Bruno e la torpetta di Inige mentre per i Lionici avevano realizzato i gol degli immediati pareggi Milessi e Cirigliano. Deve ancora rimandare l'appuntamento con i tre punti, il Materagrum che era avanti 2-0 in casa con Pizzute e Salve ma l'Ebrienza è riuscito ad imbattare con Klaps e Guida. Cristian Armento direttore sportivo del Ferrandina si può parlare di una sconfitta onorevole? Sì sì abbastanza, penso proprio di sì, i ragazzi hanno disputato veramente un'ottima gara e quindi non abbiamo niente da rimproverare i ragazzi. Anzi solamente complimenti perché hanno tenuto bene testa la Vultur che è una signora squadra. A parte i limiti in avanti ci si aspettava un Ferrandina più arrembante e non ha saputo approfittare del calo di concentrazione in campo della Vulto nel secondo tempo. Diciamo che davanti abbiamo qualche defezione perché abbiamo il centravanti, Rinaldi ancora squalificato, qualche ragazzo che l'abbiamo recuperato in settimana, abbiamo anche forzato un po' il rientro. Forse questo lo abbiamo pagato un po', però tutto sommato abbiamo fatto veramente una buona prestazione. Spero che i punti quanto prima possano venire dalla nostra parte. Alla luce dei 90 minuti come giudica il risultato? Il risultato diciamo che il Rio Nero ha giocato da squadra di vertice, ha concretizzato nel primo tempo, nel secondo tempo ha provato a gestire la partita. Per la prestazione dei ragazzi forse avremmo meritato anche qualcosina in più. Un Ferrandina che disputerà quale tipo di stagione quest'anno? Spero che la salvezza arrivi quanto prima, senza troppi patemi d'animo. Manca qualcosa a questa squadra? No, dobbiamo solo continuare a lavorare e recuperare tutti i giocatori assenti e poi lavorare su una squadra giovane, quindi solo lavoro. Per la lotta al vertice chi vede tra le favorite? Beh, penso che il campionato si giochi tra le quattro, Rio Nero, Melfi, Matera e Montescaglioso. Penso che se lo giocheranno fino alla fine. Con il nuovo Manto Erboso, finalmente una ventata di novità anche qui al Santa Maria. Beh, sì, sì, sì. Questo comunque si vede anche dal pubblico che viene allo stadio, un pubblico abbastanza numeroso oggi. Comunque è stata una bella giornata di sport, abbastanza clima sportivo, quindi va bene così, va bene così. Grande entusiasmo, infine, per il blasone. Si può fare sicuramente di più anche per il futuro. Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Però per il momento concentriamoci su questa stagione, continuiamo a lavorare come stiamo facendo fino ad ora. I risultati e la crescita arriverà. Peppe De Stefano, riconfermata la leadership in classifica, ma quanta sofferenza, possiamo dirlo? Sì, credo che siamo stati poco intelligenti e poco cinici il primo tempo. Il primo tempo deve finire 3-1, 4-1 per noi, poi il secondo tempo è tutta un'altra storia. È normale che una squadra giovane, una squadra scolastica, ordinata, come quella del Ferrantina, ti può mettere in difficoltà. Poi, onestamente, più di qualcuno a noi già pensava alla partita di mercoledì. Cosa ti ha fatto arrabbiare di più oggi? Oggi il fatto di non aver chiuso la partita è il primo tempo, perché abbiamo avuto 2-3 occasioni, eravamo 3-4 contro il portiere e contro due avversari. Siamo stati egoisti nel voler fare gol, però ci sta pure che bisogna soffrire. Il cambio che ho fatto di levare i figliomeni e di mettere un trequartista davanti ai due centrocampisti l'avrei potuto fare anche un po' prima, però sinceramente avevo paura di schiacciarmi troppo. L'importante erano i tre punti, soprattutto perché conseguiti in trasferta. Assolutamente sì. Poi, fra l'altro, questo è un campo difficile da affrontare. Io, ogni volta che ho giocato in questo campo da calciatore, anche con squadre veramente forti, abbiamo sempre sofferto. Quindi è un campo difficile. Abbiamo fatto i tre punti, abbiamo fatto anche un'ottima prestazione. Non ricordo che il Ferrandina ci abbia fatto qualchettino in porta, tranne una posizione al limite. Quindi alla fine sono contento sia della prestazione che del risultato. Qualcosa da rivedere forse nell'analisi post-gara, dire qualcosa ai ragazzi, un secondo tempo per molti versi un po' deludente. Parliamoci chiaro. No, 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 no. È normale che non sempre le partite possano finire 4-5 a 0. Il Mondescagliosi, che è un'armata, oggi ha vinto soltanto 1-0 a Tolbe. Quindi questa la dice lunga sulla difficoltà delle partite. Però devo essere sincero, noi siamo venuti con l'obiettivo dei tre punti e i tre punti abbiamo portato a casa. Primo tempo ottimo, secondo tempo ottima fase difensiva. Forse abbiamo fatto dell'errore nella pressione alta, però sono cose che possiamo rivedere sicuramente con il lavoro e possiamo non farle cadere più. Le condizioni di Montenegro per mercoledì e per domenica prossima? Mercoledì Montenegro sicuramente sarà della partita e sono convinto che non è che Montenegro sbilancerà la forza della nostra squadra. Io sono convinto che mercoledì sarà una partita difficilissima e sarà una partita anche facile da preparare perché i ragazzi la stanno aspettando. Bene, domenica poi si ritorna al Corona con il Pomarico. Oggi tutto immutato in testa alla classifica, aumenta il divario anche con le squadre a metà classifica. Sì, ma io credo che domenica sarà una partita difficile, però sarà frutto del risultato di mercoledì. Se noi mercoledì facciamo un'ottima prestazione, riusciamo a passare il turno, credo che domenica la partita la affronteremo sicuramente con un altro spirito. Affrontiamo una squadra difficile, una squadra che fa del 4-3-3 il suo modo di giocare. So come prepararla, ci vorrà soltanto il tempo e la mente libera dopo aver passato il turno di Coppitali. E c'è un controsorpasso dopo soltanto due giornate da parte dell'Angelo Cristofo Roppido che batte il milionico per 3-1 grazie alla doppietta di Colelle Provenzale. Per i padroni di casa non basta il rigore segnato da Acito e così la formazione di Magnello riesce a superare la città dei Sassi Matera bloccato sul neutro di Grassano dal tricarico. Il marmoplatano perde a Vigiano con i gol di Lombardi, La Rocca e Cavece e così viene raggiunto in terza posizione dall'atletico Montalbano che non va oltre il pari a reti inviolate in quelle di Adela. Torna al successo invece il Sangataldo che vince a Vigianello, padrono di casa che si è portato due volte avanti con Cosentino, ma Telesca, D'Andrea e Martinelli firmano i tre punti finali. Il Tito invece batte di misura la Virbus Potenza con Arciri e il Peppino Campagna Bernalda con la doppietta di Gioia, batte Paolo e l'autogol di Petruzzo. Sbanca il campo della Libertà Simone Scaglioso che era andato in gol con Carlo Ozzolo. Ha ripostato la Santa Arcangielese.